Angela mi dice ma dormire poco è salutare e Angela dipende da quando sei intossicata cioè il sonno serve... parliamo un po' del sonno il sonno serve a rigenerarsi, ricaricarsi e soprattutto a disintossicarsi quindi quanto più sei intossicata e ti intossichi durante la giornata tanto più devi dormire, vi sarà capitato che quando mangiate tanto vi viene sonno ma anche quando mangiate poco vi viene sonno cioè quando il corpo ha bisogno di energia per digerire soprattutto per disintossicarsi da merda, passatemi il termine, che si mette dentro e dove per merda, passatemi di nuovo il termine, intendo qualunque cosa in genere si mangi nel mondo occidentale dalla pasta al pane, ai dolci, ai formaggi, alla carne, spesso e volentieri quindi qualunque roba ingerite che non sia frutta e verdura buona, il che è un po' difficile si deve disintossicare, più ne inserite nel vostro corpo più si deve disintossicare così come sarà successo a molti di voi che se vi siete ubriacati qualche volta dopo dovete dormire per una giornata intera quindi il corpo quando fate cazzate, passatemi il termine vi sdraia, nel senso che vi mette a dormire in modo tale da spegnervi così che lui possa utilizzare tutte le risorse per disintossicarsi e questo è un fatto palese, cioè ognuno di voi ha sperimentato questo dopo che mangiate tanto o anche se mangiate poco vi viene sonno più mangiate più avete sonno, più vi ubriacate più vi viene sonno, più vi intossicate più vi viene sonno quindi il concetto non è se è salutare, dormire tanto o poco dipende da quello che è e ti sei maniata prima o di cui ti sei intossicata prima alcol, fumo, quello che sia quindi è ovvio che se hai una vita salutare non fumi, non ti droghi, non bevi, non mangi o comunque mangi, cioè non mangi ma ti nutri che è diverso io ho iniziato a distinguere questi due concetti cioè mangiare riempie il buco dell'ego nutrirsi riempie il buco dello stomaco stomaco ed ego non sono la stessa cosa ok? perché per riempire il buco dello stomaco quindi per nutrirsi basta un... ultimamente ad esempio il mio... uno dei miei pasti, se così si può dire cioè quando ho bisogno di mangiare è un pugno di germogli di soia con una spruzzata di spezie varie che fanno bene, parlo di curcuma, curry, peperoncino e cose varie e un po' di olio di cocco, per esempio sale e un po' di noccioline quindi uno spruzzata di noccioline germogli di soia e spezie che sono tutte cose altamente proteiche che saranno 50 grammi forse di tutto i germogli ad esempio sono tra le cose migliori noi potremmo nutrirci ad esempio soltanto di germogli e di... e di... e di... e di larve se la dovessimo dire tutta perché le larve voi in Italia ancora... forse iniziano ad arrivare adesso gli insetti però larve e insetti sono tra le cose più proteiche in assoluto al mondo si parla del cibo del futuro bastano poche larve quindi pochi vermi ma non li mangio non vi preoccupate gli assaggiati però se vogliamo dirla tutta sono tra i... basterebbero quelli oppure appunto i germogli che sono fantastici quindi stai così mangio così oppure mangi un frutto oppure mangi un uovo oppure mangi quello che è e dormi 4 ore, 5 ore a meno che a volte ultimamente non sia una mia stessa parte interiore chi mi chiede di dormire ma non tanto di dormire è di spegnermi per andare in quel livello di onde che è quello del sogno infatti stranamente ho ricominciato a sognare cosa che io difficilmente facevo invece adesso lo sapete non c'ho l'aria condizionata a palla invece adesso ho ripreso a ho ripreso a sognare e i sogni spesso mi danno intuizioni, idee, eccetera e infatti ultimamente sto avendo molte più idee, intuizioni eccetera, eccetera, eccetera e questo è quello ripeto che è impagabile cioè questo questo qualcuno dice che schifo penso, immagino in base per il discorso Larve ragazzi voglio farvi capire una cosa tra una cavalletta e un gamberetto non c'è differenza se non nella vostra mente fondamentalmente sono uguali uno sta in mare l'altro sta in cielo fritti non è che cambia tanto come gusto quando si frigge c'è tutto lo stesso gusto tanto che io qualche volta ho fatto qualche scherzo a qualche persona gli ho messo dei bacchi da seta fritti nel piatto e pensavano fossero dei non lo sapevano non si sono neanche accorti quando poi gli ho detto cosa sono hanno provato schifo questa è un'altra prerogativa simpatica della mente cioè se tu mangi una cosa c'è la buona poi ti dico guarda che erano dei verbi e ti viene da vomitare ed è particolare che la mente possa gestire tutto questo cioè se tu non sai che se tu non sai cosa stai mangiando e lo mangi ed è buono bene ma se poi ti viene detto che hai mangiato qualcosa che per te in base alle tue credenze non dovrebbe essere stato mangiato allora ti viene da vomitare classico il caso no? mangi che ne so un coniglio o pensi di mangiare un coniglio poi qualcuno dice guarda sai che hai appena mangiato un gatto come un gatto e ti viene da vomitare poi no stai tranquillo ero un coniglio stavo scherzando ah meno male e ti passa il senso di vomit no guarda che era veramente un gatto e ti riviene cioè capite come il il la mente possa gestire il fisico in maniera pazzesca io ripeto l'ho usato qui si trovano nei nei 7-11 nei negozi aperti 24 ore su 24 si trovano insieme nella sezione noccioline mandorle anacardi eccetera ci sono i bacchi da seta fritti che sono appunto dei pacchettini come se fossero delle patatine stanno nella zona delle patatine e che per loro sono un po' tipo patatine con la differenza che fanno molto meglio molto molto meglio delle patatine questo è un concetto di un concetto di base ieri dicevo ho rivisto Matrix è altro film che vi ricordo vi consiglio di rivedere adesso me li me li rivedrò tutti e tre con una con una con una consapevolezza discretamente diversa e continuo a dire che Matrix è davvero un capolavoro grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti